Ciao Mauro, ciao Alexei. Buonasera a tutti. Mettiamo il centro. Ciao Alexei, non ci conosciamo, piacere. Piacere. Diamo la parola a Alexei che conduce, io faccio il backup. Perfetto. Ma dunque, intanto buonasera al nostro gentile pubblico, buonasera di nuovo a Mauro e a Michele. Dunque, la mia idea per questo pomeriggio, per questa sera, a seconda di da dove ci guardano, era fare un debunking definitivo sul mito della propaganda russa, secondo cui la Nato si sta espandendo con mire espansionistiche, mire d'attacco, nei confronti della Russia. La dividerei in vari punti, sia spiegando proprio come funziona il processo di ammissione di un paese all'interno della Nato e poi dando anche un accenno sul perché è altamente irrealistico che la Nato finisca per attaccare la Russia, magari spiegando anche in breve che cos'è la Nato, a cosa serve la Nato. Ma la prima domanda che voglio farti, Mauro, è proprio quali sono spiegati in breve i procedimenti per entrare in Nato e a che punto l'Ucraina è a questi? Scusami, prego. No, 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 prego, prego. Ottima domanda e io suggerirei su questa, probabilmente domani sera mio fratello interverrà e la lascerei a lui più che tutto perché queste cose le conosce molto più in dettaglio. Io poi posso fare un riassunto generale ma non conosco poi i propri meccanismi legali. La procedura di ingresso nella Nato già di suo sostanzialmente smentisce un po' questa retorica perché la visione corrente che viene presentata è quella della Nato che si espande come se fossimo nell'era degli imperi per cui ognuno si tenta di controllare più territorio e poi voglio tornare proprio su questo aspetto, proprio l'importanza del territorio. Quando invece la Nato è un'alleanza militare difensiva che garantisce sostanzialmente proprio per l'articolo quinto che tutti conoscono, ovvero per cui un attacco su uno dei paesi, un attacco a tutta l'alleanza. Quindi l'obiettivo principale della Nato è quello di garantire i suoi membri e dalla fine della guerra fredda tanti dei paesi che una volta erano sotto l'equivalente sovietico, cioè il patto di Varsavia, tanti di questi paesi hanno detto noi 40 anni di influenza politica e militare russa le abbiamo avuti, questa esperienza non la vogliamo ripetere e questa volta avendo la possibilità preferiamo scegliere e scegliamo di entrare nella Nato e la Nato sostanzialmente ha dei parametri un po' come l'Unione Europea, cioè devi rispettare determinati parametri tipo separazione tra l'esercito e il governo politico, cioè questo è un punto centrale perché se sono i militari sono al comando le cose sono un po' più complicate. Poi ci sono procedure più specifiche proprio sul come le forze militari devono essere organizzate e via dicendo, queste cose ve le sta a spiegare mio fratello molto meglio, io obiettivamente non le conosco. Però quindi quando fai domanda la candidatura può essere accettata o no e quella dell'Ucraina non è mai stata, cioè è stata rimasta in stand by, il processo era stato come iniziato informalmente nel 2008 però non è mai andato da nessuna parte, quindi l'ingresso dell'Ucraina non era, come si dice in inglese, within radar, cioè non era una cosa imminente. E qui andiamo un po', la verità cosa era imminente era l'occidentalizzazione dell'Ucraina, la vera, l'elefante, come si dice in americano, l'elefante in the room, cioè il punto che tanti non discutono è che la minaccia per la Russia non è una minaccia di tipo militare, la minaccia per la Russia è una minaccia di tipo politico ed economico e qui non è una differenza subdola o sottile, è una differenza centrale, perché la differenza è avere un paese di 44 milioni di abitanti che diventa più occidentale, che diventa più ricco, che diventa politicamente quindi molto più filo Unione Europea e sul quale non hai più la capacità di controllo, non solo le risorse, ma è un po' di tutto, cioè esattamente come i bofs mafiosi vogliono tentare di controllare il sindaco locale, no? Per avere poi appalti, favori, eccetera, eccetera, così il sistema politico economico russo si basa su una logica estrattiva nel quale tu controlli i gruppi politici e da questi poi ottieni il favore in cambio. Quindi questa sarebbe la risposta molto molto veloce, però se ho evaso alcuni punti, sono felice di discuterli, ecco. Ah, guarda, intanto... Prego. Ah, prego, prego, Michele. No, 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 dì, dì, dì. Ah, no, volevo aggiungere che appunto per la Russia un'Ucraina occidentalizzata fa estremamente paura anche da un punto di vista culturale, perché crea un precedente che poi anche a livello domestico, quindi all'interno della Russia, può creare subbuglio a livello popolare, visto che si vede un paese limitrofo, con una cultura simile, che in realtà sulla carta è anche più povero rispetto alla Russia, che però segue un processo di democratizzazione, che se ne dica questo in Ucraina è avvenuto, con tutti i limiti del caso mai avvenuto, e questa cosa crea assolutamente un pericoloso precedente per il regime russo. Volevi aggiungere qualcosa, Michele? No, no, volevo da un lato appunto pubblicizzare di nuovo che abbiamo avuto un colpo di fortuna, quindi weekend con Mauro oggi e con Andrea domani alla stessa ora. E sì, Andrea, visto che lavora al college Nato, magari sulla questione a Nato lo grilliamo un po' di più. Volevo anche approfittare per dire che vedo i soliti commenti, ma Erdogan, ma questo, ma quello. Allora, rispondo io brevemente, poi magari domani, chi vuole, Parabello, Mirko e altri anonimi, se vogliono venire a discutere sulla composizione della Nato, sono benvenuti e poi faremo i raffronti storici. la Turchia non è un modello di democrazia, la Turchia non è un modello di democrazia, ma è molto meno non democratica di quanto lo sia la Russia. E ancora anche per capire che alcuni paesi sono entrati nella Nato, la Turchia è uno dei primi membri, se non saprei la data esatta, nella fase della guerra fredda, in cui i criteri ovviamente di adesione erano leggermente diversi, visto il pericolo obiettivo dell'Unione Sovietica, e va anche detto che la Turchia, che era nata come regime militare, è un paese che si è evoluto, che ha avuto una fase anche ampia di democrazia, che oggi dopo le elezioni vinte regolarmente da Erdogan, perché lui ha detto che Erdogan non è andato al potere con dei colpi di Stato o anche con elezioni truccate, è andato al potere con delle elezioni vere, ha portato al potere da una risorgenza del, dovete chiamarlo l'estremismo musulmano, del nazionalismo musulmano o del nazionalismo turco, dopodiché ha preso un'involuzione autoritaria. Direi che se uno guarda l'arco degli 80 anni quasi, 70 e passa, di esistenza della Nato, il processo di democratizzazione, di crescita e di difesa dei paesi che ne sono membri è decisamente positivo. La Nato è un santo, la Nato è il miracolo dei miracoli? No, nessuno lo sostiene e se si vuole discutere seriamente della sua funzione, del suo ruolo, del fatto che sia caso di averla o non averla, forse bisognerebbe il coraggio di accettare gli inviti invece di fare battute, spesso idiote, e polemichette, discuterne. Quindi questo è anche un avviso per dire che Boldrin è in mood shooting, quindi le cretinate, così mi sono svegliato, ho detto oggi faccio un po' il cecchino, perché no? Posso aggiungere, perché Michele è quello che è estremamente importante e vorrei double down, poi tutti mi criticano perché uso parole in inglese, ma a volte non si termina in italiano, come si dice, ulteriormente enfatizzare questo punto, due in particolare. Allora, il primo è quello del ruolo della guerra fredda. Nella guerra fredda sono state fatte a volte delle scelte pragmatiche, quindi per pragmatiche intendiamo proprio sacrificare alcuni principi per soddisfare necessità oggettive, o almeno che parevano oggettive, tra cui ci sono state quelle di far entrare paesi che chiaramente non fossero, non erano democratici, così come era la Grecia, per dire, piuttosto che il Portogallo e poi la Spagna. E questo non può essere negato, però lo stesso argomento si può fare sull'Italia che è entrata nell'euro quando aveva tutti i parametri sbagliati. A volte si fanno delle eccezioni credendo, a volte anche sbagliando, che queste eccezioni permettano di migliorare la situazione. Poi come dici tu, poi io non lavorando nella Nato non sono vincolato da nulla, nel senso posso parlare liberamente, qua non credo che stiamo facendo la difesa o la difesa di una o l'altra parte, stiamo tentando di capire però come avvengono determinati processi, quindi questo è importante. E qui viene il secondo punto, che è centrale. La prosperità di cui noi godiamo richiede una condizione centrale, che è l'assenza della guerra, o l'essenza delle minacce politiche. Questo va fino agli scritti dell'Ottocento, io sono cose che ho studiato tanti anni fa, non ricordo più tutti gli autori, però i paesi che hanno una minaccia esterna significativa, hanno per necessità una spesa militare sproporzionata, hanno per necessità un ruolo dei militari che è sproporzionato e per tutta una società più militarizzata, in inglese Garrison State, hanno spesso anche più grandi difficoltà a permettere un dibattito democratico, eccetera eccetera eccetera, incluso le democrazie. La Nato ha permesso in modo implicito ed esplicito all'Unione Europea di venire fuori, cioè ai commerci in Europa di costruirsi. Cioè dopo la fine della seconda guerra mondiale non ci fosse stato un tentativo, un attore terzo, gli Stati Uniti, che sostanzialmente dicevano agli paesi europei tranquilli, noi ci siamo, qua noi che garantiamo, il detto era to keep Germans down, Soviets out, American in, no, cioè il principio fondante della Nato. Ecco, non ci fosse stato quello, non possiamo dire non ci sarebbe mai stata la prosperità in Europa, eccetera eccetera, il controfattuale chiaramente è molto difficile. Sicuramente le cose sarebbero state perlomeno molto molto più lente, quindi questo è un aspetto centrale. Lo vediamo nei paesi africani, i paesi che hanno una minaccia militare o inestasia, la prosperità la raggiungono con grandi e più grandi difficoltà, ecco. Bene, grazie. Volevo fare una breve digressione a questo punto, prima di tornare a parlare di Russia e Ucraina e come la Nato influenza i rapporti tra questi due paesi, fare un accenno appunto alla Turchia, perché la, come tu, la critica che fanno molti è che la Turchia è in Nato ma la Turchia non è un paese democratico e se puoi appunto fare una breve digressione sul perché la Turchia è in Nato, come perché ci è entrata e quali sono state le scelte strategiche che hanno portato la Turchia in Nato e anche i pro che ha ricevuto la Turchia che, come ha accennato anche prima Michele, ha avuto un suo periodo di democratizzazione, forse anche grazie alla Nato. Guarda, l'ingresso della Turchia nella Nato si può rintracciare nel discorso famoso di Kennan, per cui aveva nel 47 o 48, nel diplomatico americano famoso che ha scritto questo X-article di cui metteva le basi per l'ideal del contenimento sovietico, nel quale parlava appunto della minaccia che soprattutto c'era in Italia, Grecia e Francia allora, ma già lì identificava come anche la Turchia, per ragioni geografiche chiare, fosse un paese importante. E con tutti i problemi, con tutti i limiti, con tutte le divergenze che ci possono essere con la Turchia, e ce ne sono state tante negli ultimi vent'anni in particolare, la Turchia gioca ancora oggi un ruolo centrale. Di nuovo, e qua non voglio giustificare, voglio essere molto chiaro, la politica estera turca la condanno su più aspetti. Ma la Turchia è quel paese che è andata a fare cosa? A fare, a combattere il tentativo russo di controllare la Libia, di prendere il controllo della Libia. È andata a fare in modo analogo questo a fare la guerra alla Russia in Siria. La guerra, ora la guerra dell'Azerbaijane Armenia dello scorso anno è molto particolare, è sempre una guerra che vede di nuovo Turchia e Russia su due fronti opposti. Di nuovo, non voglio giustificare assolutamente, perché poi la Turchia non è che stia facendo il bene, fa degli interessi suoi molto molto espliciti, no? Per coincidenza questi interessi espliciti della Turchia sono più vicini ai nostri di non quelli russi, perché fosse per la Russia Assad rimarrebbe al potere, fosse per la Russia il controllo della Libia sarebbe stato suo. Quindi, di nuovo, qua è una scelta pragmatica, anche perché i paesi europei invece, in questi casi, nel caso della Libia in particolare, hanno deciso noi lì non facciamo nulla. L'ingresso della Turchia in Libia è avvenuto perché, ora non ricordo tutti i dettagli, ma sostanzialmente il governo libico ha chiesto ai paesi europei, in particolare all'Italia, sostegno, l'Italia non l'ha dato e poi la Turchia ha sostanzialmente andato a fare il ruolo sporco. Non lo giustifico, ma questi un po' sono i fatti. Sul ruolo, chiaramente, i parametri che viola, a volte, insomma, come si dice, i parenti non te li scelghi, no? E quindi fai un po' di necessità virtù. La guerra fredda è stata chiaramente, ha imposto delle scelte e la Turchia è stata una di queste, con dei vantaggi centrali e, alla fine, la possibilità di avere accesso alle basi, spiegare missili in Turchia quando era necessario, insomma, ha svolto un suo ruolo, tipo i voli dell'U2, quello famoso che è descritto nel film Bridges of Spy, no? Questo U2 era un aero che volava ad altissima quota e che permetteva di fare per illustrazioni sull'Unione Sovietica, alcuni sfruttavano proprio le basi in Turchia. Quindi, a volte, certo, se dobbiamo fare dei discorsi solamente idealistici, possiamo criticare la politica estera turca, però, purtroppo, spesso non possiamo basarci solo sui principi idealistici, dobbiamo venire a compromessi e un partner è meglio di un altro, ecco. Sì, io vorrei provare a approfittare della presenza di Mauro per spingerlo a discutere un po' la situazione militare, non so se l'hai seguita, in particolare la conferenza stampa di ieri o l'altro ieri, del verzo di Sare Rosso, e come la vedi? A chi ha bisogno continuamente di polemizzare, rinnovo l'avviso, anche per l'ultima volta, tipo M&M che verrà ora bloccato. Quelli che ci ricattano qui profughi, io capisco, lo capisco perché lo studio, siete dei soggetti da laboratorio, siete i nemici di voi stessi, vivete nell'Occidente, evidente, libero, grazie alla libertà e alla prosperità che altri vi hanno dato a scaricate i vostri problemi personali attraverso questo strumento che il terribile neoliberismo capitalista vi ha regalato, che si chiama Internet, con i vari annessi e connessi e così pensate di essere vivi. Io lo capisco, lo capisco perfettamente esattamente come uno psichiatra capisce lo schizofrenico, però posso dirvi, l'unica pastiglietta che ho a disposizione per darvi è quella di mandarvi a fare in culo e fare bloc e quindi la utilizzano. Per il resto, buona vita e buona felicità. Scusa Marco, Mauro, cosa ne pensi della conferenza stampa allora? Insomma, tutto è sempre molto difficile da interpretare, però che la Russia adesso dica dopo aver tentato di conquistare Kiev per quattro settimane, di aver tentato di avvicinarsi verso Dessa, di prendere, ha preso Kershon e poi la Persa, ha bombardato per quattro settimane Kharkiv e dei Mariupol, riducendole a, come si dice, ruderi e ora ci dicano che l'obiettivo era solo prendere il controllo del Donbass, che avevano già dichiarato, tra l'altro, che avevano già riconosciuto legalmente come parte, come indipendente e dove c'erano già delle sue truppe, insomma, è la più grande, se avevamo dei dubbi di come la guerra stesse andando, questa dichiarazione ce ne toglie molti, perché sembra chiaramente un, vedremo cosa succede nei prossimi giorni, magari poi continuano a tentare di conquistare Kiev, ma la mia lettura è, stanno dicendo, ragazzi qua dobbiamo trovare un saving face, come si dice, un modo di salvare la faccia, dire che il nostro obiettivo era questo, così da chiudere questa esperienza. I dati che sono usciti parlano tra morti, feriti, catturati e disertori, siamo a circa 40.000, tu pensa che fighting force, cioè quelli combattenti, erano circa 95.000 all'inizio della guerra, sui 190.000 che avevano schierati. Io avevo tentato di capire questi dati perché erano importanti, non li avevo mai trovati e sono usciti questa settimana. Facciamo anche se fossero 120.000, tu hai perso un terzo delle tue forze in un mese e ora subentra la primavera, il fango, loro fino adesso hanno usato le strade perché volevano arrivare il prima possibile a Kiev e quindi usando le strade si esponevano agli attacchi perché chiaramente gli ucraini sanno che passi per quella strada, hanno tutto il tempo di piazzarsi nel modo migliore, ti colpiscono i primi mezzi del convoglio, rallentano tutto e poi ti vanno a colpire cosa viene dietro. Ora, però, prima a febbraio l'opzione di usare le campagne ce l'avevano, ora che si sciolgono davvero la neve, i ghiacci, questa opzione non c'è più, quindi il pantano vero e proprio subentra. Quindi la dichiarazione la leggo come un'ammissione che le cose stanno andando davvero davvero male, ecco. Anche perché poi non è che puoi tenere, poi ho letto cose assurde, tipo tanti intercettazioni radio intercettate, loro non hanno, non usano frequenze criptate, molti soldati hanno problemi di frostbite, congelamento alle dita, mani a piedi, tanti non hanno cibo, tanti iniziano a essere, a ribellarsi agli ordini. Ieri notizia non confermata di un convoglio che ha ammazzato il colonnello Cosera, l'ha preso sotto perché c'erano state troppe morti nel loro, non so se era un reggimento, Cosera. Insomma, la situazione chiaramente non è buona. Volevo aggiungere anche che, come hai detto giustamente tu Mauro, questa qui, questa mossa puzza tantissimo appunto di saving face, ma anche lì, anche in campo domestico, sto sentendo da molte voci dell'opposizione russa che la exit strategy di Putin possa essere dire noi il nostro obiettivo l'abbiamo raggiunto, il Donbass l'abbiamo liberato, abbiamo vinto. Anche e soprattutto per dare manforte alla propria propaganda interna, ovvero dire ai propri che, guardate che questi 40.000 tra dispersi, catturati e uccisi non sono morti in vano, ma sono morti per liberare il Donbass dai nazisti. Però volevo riprendere una cosa che hai detto tu all'inizio, sempre per rimanere sul tema del mito dell'espansione Nato. Tu volevi parlare di territorio. Sì, sì, questo è importante e ci permette anche proprio di inquadrare la situazione ucraina. Il mito del territorio, tutta la retorica sull'espansione della Nato che è una minaccia alla Russia, a parte, questo mio fratello l'ha già detto più volte, lo ripetiamo ancora una, fino al 2014 la Nato non aveva truppe stazionate sui paesi dell'est proprio per rispettare il Russia Neto Funding Act del 97-99 che proprio mirava a tranquillizzare la Russia. Quindi non c'erano truppe, le struppe sono state messe ma a rotazione nei paesi dell'est dopo il 2014. Quindi anche dopo il 2014 si faceva attenzione a non spaventare la Russia. Ma quindi arriviamo a un punto centrale che innanzitutto quando vedi adesso, quindi neanche nel 2014, adesso la quantità di truppe Nato sono comunque ridicole, parliamo mille di qua, cioè insomma vedendo le morti di questo mese ti rendi conto come non siano numeri assolutamente esigui. Ma non solo, l'idea della minaccia della conquista territoriale si rifà a una visione, a una comprensione più di una visione della guerra moderna che è 1940, 1950. Arriviamo fino al 1960. Oggi nell'era dei missili di precisione, di radar che ti possono avvistare aerei a 600 chilometri e tu con gli Stati Uniti che hanno quello che si chiama Precision Strike Complex per cui ti possono colpire con un Circular Error Probability, cioè con una circonferenza attorno al target di meno di un metro. L'idea che avere truppe sul territorio rappresenti una minaccia, soprattutto quando con l'eccezione della, cos'è, della Lettonia, no dell'Estonia, scusate, non c'è un confine, cioè la Nato non ha il confine, ci sono comunque appunto Ucraina, Moldova e Bielorussia. Quindi quando tu consideri questo, l'idea che è di dire ah ci sarà la conquista territoriale, ma quando mai? Ora uno può dire ah ma la Russia abbiamo visto nei missili di precisione, sì ma l'artiglieria. Cioè tu metti quantità industriali di artiglieria pesante e se la tua preoccupazione è che qualcuno entri nel tuo territorio con carri armati, infanteria, quella è la tua, togliendo le armi nucleari, mettiamole da parte, quella è la più grande garanzia. Quindi tutta la retorica sembra un po' di questi che giocano a risico, cioè ah controlli questo territorio e di lì puoi fare, ma quando mai? Cioè il motivo per cui le guerre sono tra paesi, sono diventate, ci sono dei grafici, dopo lo mando nel caso a Michele se lo vuole poi condividere su Twitter, ci sono dei grafici, ci fanno vedere. Guerre tra stati dal 46 in poi sono crollate esponenzialmente, sono aumentate in modo drammatico quelle all'interno degli stati. Ma perché? Perché una volta che tu hai le capacità militari avanzate di uno stato moderno, la guerra impone dei costi pesantissimi, che è quello che abbiamo visto in questo mese. Cioè di, se ci sono, presumendo numeri uguali tra le due parti, poi vedremo se sono veri o no, parliamo di 20.000 morti in un mese, più circa, quindi mettendo 60.000 feriti. Sono numeri atroci, cioè ci dicono che la, e l'Ucraina non è rifornita di armi come un paese super avanzato. Cioè se ci fosse un paese come può essere l'Inghilterra, la Germania, gli Stati Uniti, diventa un massaggio. Noi l'abbiamo visto lo scorso anno in appunto Nagorno-Karabakh, nella guerra tra Armenia e Azerbaijan. Sono morti ovunque. Perché? Perché tu hai bisogno, cioè la precisione e la capacità distruttiva dei misti moderni è talmente drammatica da fare, cioè non lascia nulla. Quindi quest'idea per cui se controlli un pezzo di territorio poi puoi attaccare la Russia, sì, nelle fantasie, è chiaro, tutto può succedere. Nel mondo reale direi anche di no, ecco. Però scusate se mi sono dilungato. No, no, va bene, io voglio, infatti molti chiedono, anch'io chiedo, sul terreno militare, sempre che tu lo conosca, guarda la situazione sul campo. L'ipotesi, veniamo alla parte militare poi magari veniamo alla parte politica, ma stiamo sul militare. L'ipotesi che adesso riescono a muovere, probabilmente subendo delle perdite, quella parte di esercito che ancora hanno attorno a Kiev e nel centro nord del paese. Sembra abbiano rinunciato a Odessa, però credo che la parte di territorio ucraino a nord della Crimea tendano a tenerselo perché l'idea del corridoio che collega per via terra la Russia, le province dell'est, la Crimea è platealmente. Due domande proprio militari. Si discute molto, l'ho visto in variati siti, vari esperti militari che dicono che il pezzo di esercito ucraino che è già impegnato nel Donbass rischia di finire accerchiato. Io non ho questa impressione da guardare le carte, ma io capisco poco queste cose, quindi quanto probabile è questo e quanto è probabile che i russi riescano a prendersi tutto il Donbass e a quel punto sedendosi alla conferenza di pace, chiamiamola così, dire beh, questo ce lo teniamo assieme a tutta la parte, Mario Paul e così via. E in secondo luogo, quindi, che possibilità, a tuo avviso, vedi che gli ucraini invece riescano a riprendere parte di quei territori? Entrebbero difficili. Prima di rispondere, una nota, cosa interessante su Kiev è che, secondo fonti del Pentagono, le forze russe hanno iniziato a scavare defensive lines, cioè per rimanere, insomma, l'idea è, noi non avanziamo qua, abbiamo bisogno di difenderci dalle contraffensive, perché da mercoledì notte, se non ricordo male, le forze ucraine hanno iniziato molte contraffensive e hanno guadagnato territorio proprio vicino a Kiev in particolare, anche in altre zone, tipo hanno riconquistato Kershon, Kershon è sopra la Crimea, quindi per dare un contesto. Sull'accerchiamento delle truppe, diciamo sì, se dal nord, cioè dalla zona di Kharkiv e Sumi, in particolare Kharkiv, tentassero di talviare tutto verso sud, è un tratto di, cioè, sono distanze giganti, quindi non è che una cosa che fai in un giorno o in due, però se dovessero riuscire, chiaramente le forze che ancora combattono a Mariupol e nel Donbass, tutta quella zona lì, verrebbero accerchiate. Lo stanno facendo, alcuni dicono di sì, altri di no, noi non vediamo un'avanzata, anzi vediamo l'esatto l'opposto, cioè se uno guarda la cartina, ci sono delle cartine per cui si vede dalla città di Sumi, che è nel nord-est, c'è una linea orizzontale che taglia tutto dritto verso Kiev, quindi questo anche smentisce proprio le dichiarazioni di ieri, cioè se l'obiettivo del governo russo fosse stato quello di prendere il Donbass da Sumi, tu cosa facevi? Tagliavi verso sud, invece quello che loro hanno fatto era tagliare verso ovest, verso Kiev, confermando che, quello che tutti avevano capito, dall'inizio del conflitto l'obiettivo era prendere i palazzi del potere. Quindi lo vogliono fare? Alcuni dicono sì, altri di no, non ho una risposta, lo possono fare? Sicuramente sì, non è una cosa veloce, proprio per quello che abbiamo visto in queste settimane, cioè il modo più veloce è usare le arterie di traffico principale, ma usando le arterie di traffico principali tu ti esponi a essere avvistato con largo anticipo e quindi ad attacchi, ad imboscate ucraine. L'alternativa è, e poi chiaramente le arterie principali hanno una larghezza limitata, quindi un carro o due per volta possono passare, quindi tu una volta che colpisci, non necessariamente il primo, colpisci uno di questi, rallenti profondamente tutto il convoglio. Possono andare, non per le arterie principali, ma appunto ora inizia ad esserci il problema del fango e comunque sulle arterie principali si è molto più lento, c'è un carro armato su strada, viaggia, non so, i 60-70 all'ora, non sono esperto di carri armati, quindi non ho il numero preciso, su terra va a, non so, 30 all'ora, quindi riduci ulteriormente l'avanzata. Sull'altro, l'altra domanda, scusa, era sulla Crimea, no? No, no, era l'assessment, così, diciamo militare, sulla probabilità, ovviamente se l'Ucraina dovesse riuscire appunto a fermare completamente l'avanzata e i russi accettassero una qualche forma di conferenza, ripeto, di pace, la metto fra virgolette perché visto il livello di distruzione è compiuta, l'uso della parola pace è brutto, no? Ma comunque una qualche cessato il fuoco armistizio duraturo, ovviamente la situazione sul terreno conta e quindi la questione che mi pongo è che capacità potrebbe avere, specialmente con i nuovi arrivi di armi e rinforzi di cui mi rallegro da parte dei paesi nato, l'esercito ucraino di recuperare una parte dei terreni occupati, oppure no. Non dico la Crimea, personalmente visto, va anche detto, la Crimea, insomma è una questione complicata, però occorre guardare i fatti sul terreno. La Russia nella storia in un secolo ha fatto praticamente etni clinzi della Crimea, prima con la deportazione dei tartari e poi con l'immigrazione russa e quindi credo che al di là del fatto che il referendum possa essere stato sotto il controllo militare, perché è vero che i sondaggi fatti in precedenza e senza controllo militare davano una specie di 50-50 in Crimea, oggi sia di fatto un'area abitata nella maggioranza, non nella totalità, ma nella maggioranza da persone che vogliono starsene con i russi. Quindi dal mio punto di vista, poi di che gli ucraini faranno quello che vogliono, io esprimo semplicemente la mia valutazione, la Crimea per cui gli ucraini è persa. Il resto invece mi sembra decisamente l'opposto, cioè il resto è popolato da persone che vogliono starsi in Ucraina. Quindi che possibilità hanno? Allora, su questo punto, guarda, io devo dirti, sono stato invitato in molte trasmissioni, devo dirti, sono stato piacevolmente colpito perché ho imparato molto, io non sono esperto di Ucraina, sono esperto di affari militari, poi in particolare di potere aereo e navale, e ho ascoltato molti esperti di Ucraina dire cose molto interessanti. E tra queste c'era come anche la parte, chiamiamola più russo, allora innanzitutto ho capito che questa divisione dell'Ucraina in parte più, che parlano ucraino e più russofoni, in verità non esiste, nelle città principali si parla tutto russo e quelli che parlano solo russo ci sono un po' in tutto il paese, no? Cioè quindi come primo punto. Ma gli aspetti interessanti che ho scoperto sono uno che apparentemente dopo il 2014 anche buona parte della popolazione russofona ha iniziato ad avere in verità sentimenti di ostilità verso la Russia. Cioè alcuni hanno smesso di parlare l'Ucraino proprio per questo motivo. Scusate, hanno smesso di parlare russo e hanno iniziato a parlare l'Ucraino proprio per questo motivo. Quindi questa è una cosa molto interessante. Quindi c'è stato, generalmente il nazionalismo, in inglese c'è la frase, a nation forged in war, no? Cioè l'idea che una nazione, lo spirito di unità nazionale, si venga forgiato durante un'invasione o durante una guerra. Insomma per l'Italia spesso viene detta, alcuni dicono solferino, gli altri dicono la disfatta di caporetto, insomma prendiamo quelle che vogliamo. E qua cosa vediamo? Vediamo insomma quello che ho imparato e che ci siano stati meccanismi simili proprio nel caso ucraino. Per quanto riguarda l'aspetto però militare, diciamo questo, soprattutto per il Donbass, la vedo molto molto difficile. Insomma perché tra la distruzione fatta, tra il fatto che chiaramente questi hanno avuto otto anni per insomma prendere controllo della zona e fare fortificazioni, fare un po' cosa volessero eccetera eccetera, sicuramente alcuni territori non sarà possibile ricoprire. Questo non vuole dire, come dici tu, una pace molto molto improbabile o meglio è difficile da pensare oggi, quindi è possibile che si sostanzialmente formalizzi, non formalizzi ma ci sia una sorta di territori occupati militarmente non riconosciuti da nessuno, fuorché dalla Russia dei suoi amici, ma dove l'Ucraina non ha più controllo politico. Quindi questa è una possibilità. Sicuramente ci saranno delle zone dove osserveremo questo. Quali? Non te lo saprei dire. Ho letto stamattina, però non ho visto la notizia confermata, apparentemente dei carri armati da Kiev iniziano ad andare via. Non so se sia vero. Sicuramente a un certo punto inizieranno a decidere cosa dare priorità e quindi lì per l'Ucraina ci sarà la possibilità di riconquistare determinati territori. Però non ti saprei dire nello specifico. Volevo aggiungere a quanto hai detto, Mauro, per quanto riguarda il fatto che molti in Ucraina e anche in Crimea, dopo appunto quanto è successo nel 2014 e oltre, sono passati appunto dalla parte dell'Ucraina. Questo è indubbio ed è sottolineato soprattutto dal fatto che la Russia porta con sé mala gestione. Un commentatore prima ha detto che ai russi serve il controllo del corridoio di Mariupol per avere il controllo del Mar Dazov. Sì, ma non solo. In realtà gli serve per collegare la Crimea alla terraferma, visto che la Russia dal 2014 a questa parte sta continuando ad avere il grande problema logistico del fatto che in Crimea non arriva acqua, non arriva acqua corrente, è molto difficile costruire infrastrutture, visto che appunto gli ucraini hanno distrutto, hanno tagliato tutte le infrastrutture che avevano con la Crimea e i russi ovviamente non sono riusciti a fare nulla di alternativo e di buono. E questo porta appunto molti degli abitanti sia della Crimea che poi del Donbass, che ha vissuto in una situazione, in questo limbo tra stato apparente, stato semiriconosciuto o non riconosciuto, a preferire la stabilità dell'Ucraina rispetto a questa situazione di limbo della Russia. Inoltre c'era un commento che ho uppato poco fa che volevo riprendere per sottoportelo. Eccolo. Allora, domanda per Mauro. Ho letto su Reuters che i missili russi hanno registrato una percentuale di malfunzionamento che è arrivata fino al 60%. Hai idea del perché? Barra cosa ne sai? Sì, l'ho letto anch'io. Ora, non sappiamo nello specifico. Generalmente il malfunzionamento è dovuto all'elettronica che ha dei problemi. Ora, l'elettronica è estremamente vulnerabile, quindi umidità piuttosto che, come si dice, vibrazioni, che chiaramente un missile ne soffre in modo significativo. Tutte queste cose sono sufficienti a rompere un minimo collegamento o comunque creare... Insomma, con Michele poi ne abbiamo parlato relativamente alla mia ricerca. Nell'ambito elettronico, noi lo vediamo con cellulari e computer, minimi danni nell'hardware, e davvero anche però per il software, hanno effetti drammatici. E cioè, ti cade il cellulare in acqua e smette di funzionare, no? Quindi, non sappiamo nello specifico, non saprei dire perché, ma possiamo generalizzare un insieme di problemi... a una categoria di problemi che è riconducibili a problemi a livello di... o disegno o di sviluppo, quindi hanno fatto abbastanza test o di produzione. Cioè, tu invece ad avere degli operai specializzati che sono letteralmente come degli operai svizzeri, quelli che ti fanno gli orologi di precisione, questi qui, fino a ieri, erano muratori e quindi loro, invece di valutare le tolleranze in millimetri, te le valutano in metri. Quindi fanno... sto esagerando, chiaramente, però questa è la ragione specifica. Tutti i missili hanno... tutti i paesi, generalmente, hanno dei missili che non esplodono per problemi tecnici. Però, insomma, il 60% è un numero tale per cui si parla di qualcosa di sistematico, ecco. Ok. Quindi possiamo ricondurre anche questa cosa qui alla mala gestione dei russi. Guarda, sai, quello che noi... io poi con Michele in altre puntate, anche prima della guerra, ne abbiamo parlato. Generalmente si parla... il campo militare, poiché non viene molto studiato, appare un po' come... non ostico, ma distante. Quindi spesso non si riescono a capire determinate dimane anche. In verità, spesso molte dinamiche non sono così differenti da quelle che noi osserviamo nel settore civile, commerciale e statale soprattutto. Cioè, se in Italia noi vediamo dei problemi nella... nel sistema pubblico, chiaramente è ragionevole pensare che il sistema pubblico russo sia ancora peggiore. Il sistema militare, che è un sistema per definizione parastatale, dove chiaramente... poiché ha grandissimi... offre grandissimi incentivi per corruzione, per via del fatto che con una tangente uno si accaparra a grandi somme, e lì i problemi di mala gestione sono... se li osservi nel settore commerciale in generale, nel settore militare, sono ancora più devastanti. E la Russia, quello che ci sta dando prova, sia a livello di tecnologia, sia a livello di operazioni, cioè con tutta la gestione della guerra, questi problemi sono, mastodondici, di lunga, di lunga superiore a quello che tanti, io incluso, avevano preventivato. Ecco, cioè, io a questo livello non l'avrei... non l'avrei... non l'avrei detto. Sì, forse lo butto lì. Chi è curioso, ci sono... ormai cominciano a girare, io le prime le ho viste su New York Times, ma ci sono anche altrove, ci sono queste registrazioni con traduzione delle comunicazioni di dozzine, centinaia di comunicazioni interne all'esercito occupante, sono abbastanza rivelatrici, che sì. Credo che l'analogia che ha fatto Mauro sia da tenere in mente. L'amministrazione pubblica italiana è quella che è, quella russa è probabilmente cento volte peggio. L'esercito, anche negli Stati Uniti, è probabilmente la parte più corrotta dell'amministrazione pubblica statunitense, però l'amministrazione pubblica statunitense è molto poco corrotta a confronto alla nostra. Quindi, se tanto mi dà tanto, basta che facciate le adeguate proporzioni. Basta dire... pensa che in Cecenia i soldati russi vendevano le armi ai ceceni, ti dico tutto. Cioè, quindi questi vendevano le armi ai ceceni, i ceceni poi li usavano per ammazzare altri russi. Beh, se... siamo a livelli assurdi, no? Andrea mi raccontava, però non ricordo i dettagli, quindi magari chiedete lui e ieri, che l'arresto dei capi dei servizi segreti fatto, cos'è, ormai due settimane fa, al di là chiaramente di manovre politiche, ma dietro ci sarebbero apparentemente anche problemi nella raccolta dell'intelligence pre-guerra. Cioè, chiaramente la Russia sfruttava tutti i dei... delle quinte colonne per la guerra. Queste quinte colonne dovevano fornire informazioni su dove erano punti nevralgici del sistema di difesa ucraino, dove sarebbe andato a nascondere Zelensky, eccetera, eccetera, eccetera. Andrea mi ha detto qualcosa, non voglio attribuirgli cose sbagliate, quindi non vado, ma ha parlato di casi assurdi di corruzione che poi in parte spiegano i problemi della prima fase della guerra. Chiedete a lui perché non mi ricordo i dettagli. Quindi nulla di cui sorprenderci, insomma, se tu ti affidi a gente corrotta, la gente corrotta va dal miglior offerente, quindi è sempre molto rischioso. Quindi se tu ti basi su quinte colonne, queste quinte colonne non è che sono fedeli a te, sono fedeli a chi paga di più. E quindi assolutamente questo è un problema. E poi l'abbiamo, come dicevi Michele tu, le registrazioni, le intercettazioni radio sono pazzesche, perché danno proprio l'idea di come questi qui fossero, cioè, navigassero a vista. Nel senso, prima che usi comunicazioni radio non criptate. Quindi non solo non hai un vantaggio operativo sul tuo avversario, ma addirittura dai a lui il vantaggio, perché questo parlando russo ti capta e sa cosa stai per fare. Ma addirittura alcuni dei generali vari, dei piani alti, ecco, delle forze armate russe, sono stati ammazzati proprio per questo. Perché gli ucraini, cioè come mai mi hanno ammazzati così tanto? Perché gli ucraini scoprivano e dicono, guardate che qua arriva il pesce grosso, quindi qua dobbiamo, con l'artiglieria o con cos'altro. Quindi, sì, sì, una cosa pazzesca. Ma c'è questa affermazione di Mirko Parabellum, che non dice da dove provenga, comunque la faccio come domanda a Mauro. Io non vedo un Mirko. Ah, Parabellum, ah, questo. Mauro, hai saputo di immensi treni riferimenti filmati che arrivano da soci e verso Mariupol. No, no, no. Occhio ne abbiamo, non so chi sia, ne abbiamo identificati 20, abbastanza male, 6 brigate. Neanche io ho visto la notizia da nessuna parte, nessuno dei siti che seguo, però... Cioè, in verità cosa abbiamo... Allora, io ho sentito di la decisione di mettere, mandare più soldati di leva e poi tutto, chiaramente, le informazioni sui siriani cecceni, però di questo no. Però, anche se fosse, voglio dire, tu puoi sempre mandare più soldati. La situazione... No, dico, Mirko, se la fonte è video che ti hanno notato dei ragazzi russi, magari... Magari sono video di... No, no, possibile, però non... Quindi, vorrebbe, suggerirebbe quindi che la Russia vuole, chiaramente non vuole, non vuole uscire ancora. E probabilmente, io non credo, la dichiarazione di ieri io non la leggo come un... Noi ce ne andiamo. Io la leggo come un tentativo di dire che c'è un piano B, sul quale si focalizzeranno. Chiaramente continueranno a fare terra bruciata per un po', fino a quando diranno che noi ora abbiamo distrutto abbastanza il paese, fatto abbastanza vittime, noi ora ce ne andiamo indietro, abbiamo preso il Donbass e qualcos'altro. Quindi, se la domanda è, è possibile che la Russia voglia continuare a combattere? Per un po', sicuramente sì. Non vedo, può sempre succedere di tutto, però non mi aspetto una fine dell'ostilità nel giro di giorni o una settimana. Che queste possano cambiare qualcosa, insomma, i problemi rimangono sempre quelli che abbiamo già discusso. Cioè, la Russia non ha il controllo aereo, senza il controllo aereo tu hai problemi pazzeschi. L'Ucraina, le difese ucraine sono comunque ancora in parte funzionanti. Quindi, questo non cambierà a breve, ecco. Quanto sono funzionate? Allora, questa è un'ottima domanda, non lo sappiamo. Parlavo con un, diciamo, una persona importante, non la identifichiamo perché non so se poteva parlare, che mi diceva di una presentazione a un centro studi famoso inglese, che descriveva livelli delle forze amate russe assurde. Cioè, questi qua operano all'alba, al tramonto, perché chiaramente sono, quindi sfruttano la limitata visibilità a proprio vantaggio, ma la limitata visibilità a sua volta per poter colpire gli obiettivi. Cioè, questi non hanno sistemi di, quello che in inglese si chiama long range target acquisition. Tu per colpire gli obiettivi al pilota dici solo, tu devi volare a questa distanza, il missile, poi punti il missile e il missile colpisce. Generalmente questi paesi nato sono, non so, così. Nulla del genere, questi colpiscono con bombe non guidate, quindi devono volarci sopra, e quindi dovendoci volare sopra si devono avvicinare tantissimo, perché colpiscono comunque obiettivi sensibili, questi sono difesi da contraerea, e quindi si espongono a rischi. Quindi i piloti russi spesso apparentemente si lamentano di dover svolgere determinate operazioni, ed è il motivo per cui ne fanno poche e spesso vengono abbattuti. Quindi le forze aeree volano a bassa quota, questo l'avevo già spiegato, il motivo per cui voli a bassa quota è che eviti di essere avvistato a lunghissima distanza da un sistema radar, cioè il sistema radar emette come se fosse una torcia elettrica, quindi i sistemi di terra non riescono ad avvistare veivoli che volano a bassissima quota. Quindi loro in questo modo hanno un vantaggio, riducono il tempo di reazione. Ci ho detto, però tu hai comunque sempre, che qualcuno ti può dire, da Mariupol ti può dire, o non so, da Kharkiv dice, ci sono dei caccia in direzione Kiev. Basta avere un telefono e tu da Kiev dici, ok, noi sappiamo che in quella direzione vagamente arrivano. Ora, tu non è che li devi poi necessariamente colpire tutti o colpire, però quando gli spari dei missili, dei Stinger, questi qui devono abbandonare o devono intraprendere manovre evasive, per cui spesso, per alleggerirsi, magari sganciano le bombe, perché per avere più manovrabilità, quindi magari tu non è che li colpisci, ma impedisci a loro di svolgere la loro missione. E poi sai, il caccio non è che abbia grande autonomia, quindi a seconda della velocità, 5 ore, quindi deve andare, tornare, e se deve fare un po' di manovre evasive, il suo obiettivo gliel'hai limitato. Poi, tra l'altro, è anche importante considerare, Mauro, appunto, correggimi se dico una cosa imprecisa, ma i russi hanno una scarsissima disponibilità di missili di precisione. La maggior parte sono... Ah no, scusami, scusami, vai pure. No, 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 esattamente, come dicevi tu, esattamente, è pazzesco. Cioè, questo è uno degli aspetti che sapevamo, ne abbiamo discusso la prima mattina della guerra con Michele, era un dato che era emerso, però nessuno immaginava il livello fosse questo. Cioè, usare... Praticamente, l'aviazione russa sta combattendo come quella americana combatteva in Vietnam. Addirittura forse peggio. Perché allora, comunque, gli Stati Uniti delle bombe guidate ce l'avevano. E l'aspetto centrale, l'ho spiegato in un video con Dino e Marco, mi sembra, gli Stati Uniti, per darvi un'idea, negli ultimi vent'anni hanno sviluppato dei kit estremamente economici che permettono a bombe non guidate di diventare guidate. Cioè, tu attacchi a una bomba non guidata questo kit che è guidato da un GPS, quindi ha un paio di alette che lo direzionano, tu sganci la bomba e questa ha una precisione molto alta, quindi con, non so, mille euro, per dire, non so quanto costi, facciamo anche diecimila euro, insomma, per il costo di una bomba, parliamo di bazzecole, tu trasformi una bomba non guidata in una bomba guidata, si chiamano JDAMS, Joint Direct Attack Munition. La Russia non ha neanche provato a fare questo, cioè, questo, se parliamo di cose pazzesche, ti basta letteralmente avere un connettore a un GPS transmitter che poi fa tutto il resto. Quindi, da questo punto di vista, chiaramente, la nostra comprensione delle forze armate russie, in particolare quelle più avanzate, viene significativamente peggiorata, cioè, questi sono molto, molto indietro, ecco. Certo, anche perché, come abbiamo più volte sottolineato, anche qui in live, la Russia non sta usando quei pochi armamenti moderni che ha. Non si è visto il Su-57, non si sono visti i missili migliori, o comunque sono stati usati poche volte. Ora non sono informato in maniera estremamente precisa, però, via generica, possiamo dire che i russi stanno mandando avanti tutti quei reparti che sono carne da macello, anche il fatto che abbiamo visto siriani, abbiamo visto ceceni, abbiamo visto anche un battaglione dell'Ossetia del Sud, se non sbaglio, o comunque una serie di soldati dell'Ossetia del Sud. Scusa, vai, vai. No, no, volevo solo chiederti se la scarsa disponibilità di missili di alta precisione russi vale sia per l'aria che per il terraria, ma immagino di sì. Allora, per il terraria, sicuramente vale per entrambi, cioè questo è innegabile, il fatto che usino così tanto l'artiglieria suggerisce che vale anche per il terraria, quindi questi missili MLRS, Multiple Launcher Rocket Systems, hanno un arco, quindi con la traiettoria sai dove colpisci, ma non è che vai a colpire a distanza di un metro, colpisci un po' quello che colpisci. Però quello che hai detto è assolutamente centrale, è uscito un articolo sul New York Times, penso mercoledì, che parlava, che riassumeva i conflitti air on air, cioè gli scontri aerei tra ucraini e russi, sui cieli dell'Ucraina, e sono pazzeschi, perché ci sono quello che si chiama dogfight, cioè conflitti aerei a cortissima distanza. Gli Stati Uniti dall'F-15 e l'F-16, cioè parliamo tecnologia anni 70, ha aumentato la distanza degli scontri aerei, cioè è come per quelli che seguono il basket, come il tiro da tre punti, cioè perché devo arrivicinarmi al mio nemico, rischiando di essere colpito, quando io lo posso colpire, non solo a lunga distanza, ma addirittura da cosiddetta beyond visual range, cioè beyond, quindi ha una distanza che è di lunga, superiore a quello che l'occhio umano permette. E gli Stati Uniti hanno detto, perché noi dobbiamo avere i caccia supermanovrabili, che fanno tutte le acrobazie, c'è un video famoso di capoeira, se uno lo mette, chi vuole interessato mette capoeira, punch in the face, c'è sto tizio che fa tutte le mosse di capoeira, e poi come si ferma, un altro arriva e gli dire a un cazzotto, perché dobbiamo avere dei caccia che fanno le supermanovre quando li possiamo colpire a 200 chilometri di distanza, per dire. E questo è centrale perché gli Stati Uniti di caccia sono abbattuti da aerei nemici che io sappia da allora non ne hanno più avuti. Questo è centrale. L'Israele nell'82 contro la Siria, i dati non sono sempre precisi, quindi a seconda della fonte ci sono dati diversi, si parla tipo di 82 a 0. Cioè gli F-15 e gli F-16, gli israeliani hanno abbattuto MIG sovietici dati alla Siria per un rapporto 82 a 0. La Russia qua invece dovrebbe fare la stessa cosa. Cioè comunque il Su-35, il Su-57 che tu menzionavi, sono avanzati. Quindi la domanda centrale è ma come mai questi non fanno, non abbattono i caccia ucraini da lunga distanza, ma vanno a mettersi in pericolo? Qualcosa nella cosiddetta kill chain, il sistema che va da avvistamento, identificazione, geolocalizzazione, tracciamento e abbattimento di un aereo nemico, chiaramente qualcosa lì non sta funzionando bene. Certo. Una volta che ci hanno sentito mi avevi fatto un calcolo della capacità missilistica terra-terra russa. Con i numeri che si sono visti, mi sembra che ne avevano inviato una quantità mostruosa in questo mese, e vista la mancanza totale a questo punto, da quando capisco a meno di sotterfugi dell'ultima settimana di CIP, quanti ne hanno ancora? Ah, i miss, sì, sì. Allora, lì quando si era parlato penso fosse proprio uno dei primi giorni, penso il dato parlasse di un paio di migliaia. Noi sappiamo, chiaramente, lì dipende poi quel dato a cosa si riferiva e penso si riferisse principalmente a tipo di cruise missiles, quindi non missili balistici. Noi sappiamo che in tutta la guerra ad oggi hanno lanciato tipo, se non ricordo male, 1200 missili, quindi insomma una buona scorta se li sono usati. Sicuramente, tipo oggi, l'ho messo su Twitter, è stato usato un missile balistico per colpire un sistema mobile di difesa antiaerea. Cioè, è come prendere un cannone per ammazzare un moscerino, una mosca, ecco, una vespa. Cioè, qua, è anche il missile ipersonico, che poi ipersonico non ha molto senso come termine, usato la scorsa settimana, io la leggo più come una dichiarazione del cui dobbiamo iniziare ad usare cose disponibili. Magari sbaglio, non ho, quindi vedremo alla fine della guerra avremo chiaramente dati più precisi che ci permettono di derivare conclusioni chiare. Però, da questo punto di vista, chiaramente, è uno dei motivi per cui la guerra non è sostenibile a lungo termine. Togliendo le perdite, cioè, i sistemi di precisione, questi ne stanno usando molti e li stanno usando in modo non efficace, scusate, non efficiente, ecco. Io poi, scusate, posso, cinque minuti, purtroppo, Pede, devo andare a cena, scusatemi, ma devo... Tranquillissimo, tranquillissimo, avevamo previsto 45 e li abbiamo anche già superati. No, vabbè, cinque minuti ancora, rimango volentieri, però poi devo correre. Va bene, allora, se posso, volevo farti l'ultima domanda, proprio sui missili, sui missili personici, che mi è capitato tra le mani un articolo russo, filo governativo, che più o meno diceva che l'Occidente trema di fronte ai nostri missili personici. Vogliamo un attimo commentare rapidamente questa cosa? Allora, no, è curioso, sono stato intervistato tra l'altro anche dalla Sette, forse manderanno un video la prossima settimana della mia intervista proprio su questo tema. Ci sono più punti. Uno, la Russia ha usato un video falso per confermare il video, l'attacco, l'uso di questo missili. Quindi già questa è una roba curiosa, che usino un video fasullo. altri hanno guardato, hanno usato il video per calcolare la velocità di movimento del missile, hanno detto questa è una velocità di lunga e inferiore a cosa un missile ipersonico. Due, non era comunque un missile propriamente ipersonico come proprio, generalmente compreniamoci, i missili ipersonici li definiamo, la, il personico si riferisce alla velocità e anche i missili balistici raggiungono una velocità ipersonica che è qualsiasi cosa oltre a 5, 5 mila chilometri all'ora. Questo era un missile balistico ma sparato da un caccia, quindi invece di avere una traiettoria balistica aveva una traiettoria un po' più piana. Però è un missile balistico a tutti gli effetti che chiaramente avendo una traiettoria più piana si avvicina a quello che è un missile ipersonico propriamente detto. Però i missili ipersonici come vantaggio hanno quello di essere manovrabili. Questo è un missile balistico non è manovrabile per definizione, cioè cade per, quando, per inerzia, per gravità. Sì, sono, sono comunque un missile difficile da intercettare come tutti i missili balistici e come tutti i missili da crociera, cioè tutti i missili per definizione sono estremamente estremamente difficili da colpire. Quindi, se la domanda è è difficile colpire questo missile russo? Sì, come è difficile colpire qualsiasi altro missile iraniano incluso, ecco, cioè non è che o iracheno. Una volta che hai dei missili, questi per tutta una serie di ragioni sono difficili da colpire. L'altro aspetto curioso di questa vicenda è che questi hanno sparato un missile appunto ipersonico, questo gioiello, per colpire un deposito di armi. Di nuovo, sembra il cannone per ammazzare la mosca. Cioè, se fosse stato quello è là il covo di Zelensky e quella notte c'è un meeting segreto di tutto il governo e con un missile li ammazzano tutti, dici, vabbè ragazzi, ci sta, hanno voluto sfoderare il proiettile di argento per un deposito di armi francamente sembra una cosa. Quindi, tutti sono impauriti, anche no. Allora, è una minaccia, sì, perché è lanciato da un caccia, poiché il caccia va dove vuole, quindi tu, è imprevedibile la traiettoria. Questa è la difficoltà del, di un missile di persone che è lanciato da un caccia. Però, non c'è nulla di nuovo, ecco, cioè, parliamo di tecnologia, non so, anni Ottanta, come uno che si presenta con la ritmo e che vuole impressionare una macchina nuova, ecco, non so. L'ultima domanda la faccio io, poi ti lascio andare per quel brevissimo perché viene ripetuta continuamente. Abbiamo un pubblico di persone relativamente giovani e devo dire dalle cose che ho visto scritte, insomma, un po' più di tentativi di, qui esce il professore, ma molti fanno domande che hanno banali risposte, sono antiche e le risposte si trovano tranquillamente in rete. Una valutazione alla luce di quel che abbiamo visto del rischio europeo nel caso di un confronto aereo. Rischio europeo in che senso? Ma rischio europeo nel senso di probabilità di prenderla, probabilità di avere, supponiamo che succedono delle cose per cui Nato decide per esempio di costruire e di costruire, di dichiarare e di rendere effettiva a costruire veniva da lì questa benedetta non-fly zone, cosa che io dubito ma non importa. Le domande vanno in quella direzione quindi cerchiamo di soddisfarle per una volta. E quindi questo implica il rischio di un confronto aereo o missilistico fra le forze Nato oggi disponibili in Europa e quelle russe. Una domanda che ti ho già fatto in versione diversa un paio di settimane fa. L'outcome di tutto questo cos'è? Che c'è una grande distruzione, che missili russi possono facilmente arrivare su città europee e così via o no? Sicuramente come dicevo i missili sono tutti difficili da intercettare. Poi i paesi dell'est Europa hanno dei sistemi di difesa antiaerea e missilistica per cui possono sempre fare alcuni li possono come si dice possono essere intercettati. Chiaro che se tu ne lanci cinque e ne ne abbatti quattro insomma il 20% è solo uno ma se la Russia ne lancia quattrocento è quello cioè quello che si chiama saturation no? Cioè tu sostanzialmente sconfiggi le difese antiaeree nemiche lanciando un numero di missili che è materialmente impossibile da arrestare ed è il motivo per cui nessuno ha alcun incentivo a fare allargare il conflitto perché come dicevamo prima i conflitti moderni sono talmente letali per cui il livello di distruzione è tale che non convengono a nessuno quindi ci fossero degli attacchi russi con missili da crociera missili balistici raggiungerebbero le città europee sì assolutamente qualcuno sicuramente interverrebbe raggiungerebbe gli obiettivi o comunque non verrebbe abbattuto la probabilità che ci sia un allargamento del conflitto ad oggi soprattutto dopo la dichiarazione di ieri direi si abbasso ulteriormente sempre possibile tutto è possibile cioè Putin può sempre salire sulla nostra nave e andare su Marte cioè tutto è possibile probabilità che qualcosa del genere succeda direi ad oggi io dormo tranquillo ecco buona cena Mauro ottimo scusate ma è stata una settimana devastante avevo preso l'impegno per la cena nulla Michele grazie dell'invito ci sentiamo comunque presto saluti a tutti ciao ciao buon aspetto grazie ciao ciao Alex